abbiamo pubblicato come quaderni del bardo edizioni l'ora del sole medio di antonella rizzo si tratta di un testo ricco di poesia soprattutto perché ogni componimento costituisce il tassello di un puzzle abbastanza nitido e definito un puzzle che ha una visione che è quella della speranza e che la poetessa costruisce partendo da una serie esistenziali per poi diventare unità unità che agisce in testi e contesti unità che agisce all'interno di piccole cose quotidiane all'interno di piccole derive all'interno di piccoli grandi apocalissi che comunque costituiscono una grammatica dell'io poetico in grado di suggerirci come l'esistenza della quotidianità altro non è che un esercizio spirituale da continuare con costanza e con grande rigore il libro che trovate su amazon alla prefazione di ignazio ricata e la post-fazione di dario talarico grazie a tutti